Buongiorno, benvenuti dalla redazione web della città, buon venerdì, cominciamo con le notizie di viabilità e ci colleghiamo con la centrale operativa dei vigili urbani, con l'ispettore capo Walter Gerbi. Le notizie di oggi, in collegamento con la centrale operativa del comando di polizia municipale di Torino. Buon venerdì 15 maggio, le notizie di oggi, divieto di transito in via Ragazzoni, dove è situata la piscina Colletta, semafori in manutenzione in via De Sancri, Sangolo via Monginevole e Santa Maria Mazzarello, e in corso Montegappa, Angolo via Nicola Fabrizio e Nicomede Bianchi, con vigili in centro e in crocio, in via Roma, Angolo via Bozzi, e in via Nizza, Angolo via Valenza. All'ingotto Fiere, via Nizza 280, l'edizione 2009 della Fiera Internazionale del Libro di Torino, fino a lunedì 18 maggio, orari, domenica e lunedì dalle 10 alle 22, venerdì e sabato dalle 10 alle 23. Nell'ambito dello sciopero scuola, corteo alle ore 8 e 30 da via Talucchi 20, scuola Gambaro per via Talucchi, via Palmieri, Corso Francia, Piazza Statuto, Corso San Martino, via Cernaia, via Pietromicca, Piazza Castello, via Po, via Rossini, via Verdi, fronte Rai. Alle ore 9 presso il Palazzetto dello Sport del Parco Ruffini, cerimonia conclusiva dei progetti didattici di convivenza civile tenuti nelle scuole cittadine della Polizia Municipale Torino. Processo ThyssenKrupp al Palaggiustizia di Corso Vittorio Emanuele 130 dalle ore 9. Alle ore 21 al Mazda Palace di Corso Ferrara, concerto di Giorgia. Quadrangolare benefico questa sera la partita infinita di calcio allo stadio Primo Nebbiolo al Parco Ruffini, tra le squadre Matti per il calcio, Magistrati di Torino, Nazionale Arbitri, Nazionale Grande Fratello. Oggi non c'è sciopero dei metri pubblici a Torino. È tutto, buon viaggio. Grazie Walter per queste notizie di viabilità, noi passiamo a vedere la situazione del tempo, una situazione oggi decisamente brutta perché come avrete avuto modo di vedere piove, sono alla rilevazione dell'Arpa Piemonte delle 8 sulla nostra home page, ci dà una temperatura intorno ai 15 gradi. Le previsioni per oggi purtroppo non sono buone, dobbiamo aspettarci un'intera giornata di pioggia, le cose dovrebbero migliorare già a partire da domani, ma su questo saremo ovviamente più precisi nella nostra seconda edizione di questo pomeriggio. Per quanto riguarda gli appuntamenti istituzionali previsti per oggi, è cominciato da pochi minuti in via Corte d'Appello 16, un workshop sul turismo responsabile organizzato dal settore Cooperazione Internazionale e Pace. Alle 9.30, quindi tra pochi minuti, il sindaco sarà all'Istituto San Giuseppe, in via San Francesco da Paola, per salutare gli alunni in occasione della festa di San Giovanni La Salle. Alle 10 avremo poi un sopralluogo della quinta commissione consigliare che parteciperà al convegno La cultura costa, l'ignoranza è gratis presso la fiera del libro all'ingotto Fiere in via Nizza. Alle 11 il sindaco sarà poi in Corso Palermo numero 3 per inaugurare l'archivio storico dell'Italgas. Alle 11.30 la riunione congiunta della prima e della seconda commissione nella sala orologio di Palazzo Civico. Alle 12.30 poi a Palazzo Civico sarà ricevuto l'ambasciatore della Thailandia. Alle 14 nella sala capigruppo la conferenza dei capigruppo. Alle 14.30 il sindaco e altre autorità cittadine saranno in via Corte d'Appello 16 per intervenire alla cerimonia per le nozze d'oro di alcuni cittadini di Torino. Alle 17.30 nella sala del consiglio comunale di Palazzo Civico la proiezione di Piacere ad Agobetti organizzata dal centro studi Piero Gobetti. Alle 20 poi alla fiera del libro ci sarà la presentazione del libro Costruire una cattedrale di Enrico Letta alla presenza del sindaco e poi questa sera alle 20.30 la fondazione Teatro Ragazzi di Corso Galileo Ferraris 266 la festa conclusiva del Festival di lingue con rappresentazione del Faust in bulgaro, francese, italiano, serbo, portoghese, tedesco e turco. Andiamo a vedere anche le notizie di Torino Click, la nostra agenzia quotidiana che trovate all'indirizzo in sovrimpressione. L'edizione a cui ci riferiamo è quella che è stata pubblicata ieri sera intorno alle 19.30. Parliamo subito di sport perché anche se le squadre italiane non saranno protagoniste della finale di Champions League che si terrà a Roma il prossimo 27 maggio. L'Italia è comunque il paese ospitante della finale e quindi la Coppa dei Campioni sta facendo un tour di alcune città italiane per essere esposta al pubblico ed è arrivata anche la volta di Torino lunedì prossimo lunedì 18 maggio dalle 10 alle 18 ad ingresso gratuito sarà possibile quantomeno ammirare questo trofeo in attesa di vincerlo nella sala matrimoni di via Corte d'Appello numero 16 al piano terreno. Per quanto riguarda invece un'altra notizia Torino Clic è quella relativa ai grandi eventi che si terranno sabato in città e che avranno ovviamente delle conseguenze sulla viabilità. Piazza San Carlo sarà occupata per tutta la durata del weekend da uno show di Mediaset in occasione del passaggio al digitale terrestre di Rete 4. Saranno chiusi i tratti di via Alfieri e via Maria Teresa che danno accesso alla piazza. Sabato poi ci sarà partire anche dalle 10 del mattino una manifestazione che partirà dalla Fiat Mirafiori e raggiungerà la sede centrale della Fiat all'ingotto. Non si sa ancora quale sarà il percorso preciso ma sono ovviamente possibili dei disagi alla circolazione. Sabato pomeriggio poi tra le 14.30 alle 15 in piazza Solferino dal lato di via Alfieri partirà la manifestazione del Gay Pride che attraverso via Bertola e via Roma arriverà alla prefettura e poi da lì passerà in piazza Palazzo di Città. Piazza Solferino sarà chiusa al traffico nel lato est a partire dalle 10 del mattino e poi le chiusure avverranno man mano che il corteo si sposterà. Vi segnalo poi anche la partita benefica di calcio tra Nazionale Stilisti e All Star Juventus che si terrà alle 18 allo Stadio Cenisia in via Revello e vi segnalo che GTT dalle 14 alle 18 proverà la deviazione di circa 23 linee di mezzi pubblici. Vi rimando al sito di GTT per tutte quante le informazioni nel dettaglio. Andiamo a vedere le notizie dal web della città. Vi segnaliamo la notizia relativa al Geometra Risponde, questa iniziativa del Collegio dei Geometri di Torino e provincia con gli assessorati al bilancio della cultura della città. Si tratta di consulenze gratuite che il Collegio dei Geometri offre all'interno delle biblioteche civiche torinesi. C'è un lungo calendario di appuntamenti che trovate riepilogato dalla notizia. Vi segnalo che questo sabato gli appuntamenti saranno in due biblioteche, quella di Villa Morette di Corso Orbassano 200 e la Primo Levi di via Leoncavallo 17. Gli appuntamenti si tengono nella mattinata. Andiamo a chiudere con le nostre webcam per vedere la situazione in città sotto la pioggia. Qui partiamo da Piazza Palazzo di Città. Questa è la situazione in questo momento nella piazza. Abbiamo anche un po' di condensa sulla nostra telecamera. Questo è poco distante la situazione nella Piazza del Duomo davanti alla Cattedrale di San Giovanni. Per quanto riguarda il traffico, qui siamo in Piazza Pitagora. Abbiamo, come vedete, un po' di incolonamenti in direzione sud verso il Lingotto Fiere, complice probabilmente anche la Fiera del Libro e infine nella zona nord. Questa è la situazione alla Rotonda Autostrade in entrate e uscita dalla Torino-Milano. Direi che non ci sono problemi in questo momento per la viabilità in quella zona. Bene, io vi ringrazio per averci seguito. Vi do appuntamento oggi pomeriggio, se lo vorrete, alle 16.15 con la nostra seconda edizione. Vi ricordo che oggi è venerdì, quindi uscirà anche il nostro settimanale culturale, girato ovviamente vista l'attualità alla Fiera del Libro. Grazie a Mario Parena per la redazione del giornale. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.